Ciao a tutti ragazzi, sono Koryan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Village Attacks della Grimlord Games, che è un tower defense che era già da diverso tempo che volevo provare, perché ha delle meccaniche particolari che fondono un tower defense a un dungeon crawler, però la peculiarità di questo gioco è che, vi posso prendere hero quest, vi posso prendere Massive Darkness, noi siamo sempre gli eroi che entrano in un dungeon per sgraffignare tesoro, abbattere mostri, risolvere le missioni, liberare i pisioneri e scappare. Qui invece è la rovescia, qui saremmo noi mostri, nella fattispecie benshi, vampiri, trolle, creature del genere, e dovremo invece difendere il nostro castello dall'assalto dei popolani. Ed è una cosa bella che ci rivede in una specie di castello di Dracula, dove noi appunto siamo mostri e dobbiamo difenderci dagli eroi che entreranno. Questo è un gioco della Grimlord Games che io ringrazio di cuore, grazie ragazzi davvero un onore collaborare con voi, e tra l'altro, come avevo già accennato precedentemente, quanto veci il video di Endure the Stars, questo è un gioco che invece della Grimlord Games trovate anche in edizione italiana, tanto comunque i primi due link che trovate in descrizione sono quelli lì, perché nell'edizione inglese la prendete direttamente dal loro sito, magari c'è qualcuno che preferisce prendere la lingua originale, o se no, bellissimo, è il lavoro di traduzione fatto veramente bene, a cura della Weird Edizioni, che trovate sempre nei primi due link in descrizione, se lo volete acquistare in italiano. Weird Edizioni ha tradotto soltanto il gioco base, le altre espansioni sono in inglese, quindi vanno ad ordinare il sito, ed è una cosa bella perché il gioco base no, ma le espansioni sono fatte le scatole a libri, un po' come se vogliamo Dungeon Saga della Mantic, e quindi sono anche belline da vedere nella libreria e tutto quanto. È un gioco molto interessante, da 1 a 5 giocatori, età 14 o più, sì dai, secondo me ci possiamo stare anche per il contenuto un pochino che va a trattare, durata 30-180 minuti, in 30 minuti è dura eh farcela, per quanto il gioco scorre veramente veloce, alla fin fine è un Tower Defense, però forse, forse un'oretta ci vuole, da, secondo me dai 60-180, 30 forse sono un pochino, un po' pochi, da mettere sulla scatola, e va sicuro, veramente un bel gioco interessante, e poi dai Tony Cooper, ve l'ho detto, per una volta ci vedono a noi, nei panni del mostro, e non è una cosa di tutti i giorni, ed è veramente bella e interessante. Unboxing, scatola del gioco, quadrata, nemmeno poi tanto grande rispetto alla mano, il disegno che c'è sopra, la colorazione è tutto spettacolare, e come vedete si vede qui un vampiro, qui davanti, che riporta un po' anche Kane, di Legacy of Kane, e qui davanti tutti quanti i popolanni, che fanno la sarta al castello, perché nemici in questo gioco, nel gioco di base, poi nelle espansioni ci sono anche altri, tipi di ruoli, di archetipi, però quelli di base sono i popolanni, classico, con la torcia, che vanno per ammazzare Dracula nel castello, i cacciatori, che sono cacciatori di mostri, di vampiri, una cosa del genere, e gli eroi, perché ci sono anche gli eroi veri e propri che entrano nel castello, non soltanto per aiutare il villaggio a liberarlo, quanto magari nella speranza di trovare un oggetto magico, una reliquia, una cosa del genere, ed è veramente, veramente molto bello il disegno. Apriamo. Regolamento, nella versione 1.1, vi ricordo, vi sto mostrando la versione inglese, ma tranquilli, se lo volete in italiano, direttamente dal sito della weird. Regolamento veloce, anche questo di una trentina di pagine, però le prime diciamo 18-19 sono di regole, tra l'altro è ben illustrato, piano di tempo di esempio e cose del genere, poi anche in inglese scorre bene, perché fortunatamente le regole del gioco sono poche e semplici, e poi le ultime pagine sono per il setup delle mappe, gioco che si può giocare in modalità campagna, o si può giocare in modalità single shot, quindi come lo gioco io di solito con mia moglie. Pedine, ce ne sono veramente tante, e veramente belle, ecco la qualità delle pedine di questo gioco, ragazzi è degna veramente dei migliori prodotti, e dei migliori giochi da tavolo del genere appunto, Tower Defense e alla fin fine anche un po' un dungeon crawler, e sono fatte veramente bene, ve ne faccio vedere alcune, vi faccio vedere un paio di mostri, mostri che ovviamente sono i vostri personaggi dell'avventura, e ognuna delle abilità particolari, qui una benshi, questa è la mia preferita come pedine, mi garba veramente da morire, sembra il classico spettro del castello, si passa a una specie di Sleepy Hollow, il cavaliere senza testa con una frusta in mano, e la sua testa in quell'altra, guardate la qualità ragazzi, il dettaglio è veramente bellissimo, il vampiro, insomma il classico no, alla fin fine di un castello gotico horror, bello ricorda molto Dracula o anche Kane, i popolani, che figata del gioco li hanno fatti, quasi tutti in diverse posizioni, almeno non sono tutti uguali, e poi addirittura divisi anche per sesso, addirittura uno maschio, quindi un uomo, e di qua invece una popolana donna, una femmina, quindi guardate anche la figata, è una piccolezza, però alla fin fine è bellino, perché fa molto più, in un gioco di miniature ecco, ci devi stare molto attenti al dettaglio, i cacciatori, questi sono proprio i cacciatori di mostri, che sono la parte più agguerrita dei popolani, quindi quando venite uno in campo, state molto 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 attenti, e gli eroi, in questo caso un tombarolo, che sono pronte ad entrare nel dungeon, sì per aiutare la gente a completare la quest, e distruggere il signore oscuro, che siete voi il mostro, però anche a sgraffignare qualche tesoro, sacchettino, dove dentro vanno messi dei token, vanno shakerati ed estratti, soprattutto ad esempio quando in campo, entrerà un cacciatore, bisognerà vedere quel tipo di cacciatore, a quale mostro dei vostri sarà abbinato, e lo tirerete fuori di qui. Uno sbotto, uno sbotto di vasette colorate, ce n'è un casino, perché queste le dovete mettere sotto, sia ai mostri, che ai cacciatori e agli eroi, perché nel gioco c'è una regola, che ciascun cacciatore, i popolani normali no, non vi preoccupate, però i cacciatori e gli eroi, hanno un mostro nemesi, che ne so se c'è un cacciatore generico, non ci mettete niente, però se c'è un cacciatore, che ammazza i vampiri ad esempio, li mettete sotto la pedina colorata, dello stesso colore a cui l'avete data, che ne so al vampiro che al momento è in campo, perché quando il cacciatore combatterà la sua nemesi, invece di fargli una ferita, gliene farà due, quindi è lo stessa cosa agli eroi, gli eroi stessa cosa, quindi queste vanno messe sotto, sia ai mostri, scusate, che agli eroi e che ai cacciatori. Tile delle stanze, che sono, vabbè, qui corridoi ad incroci, stanze piccole, che sono queste qui, e poi qua sotto, invece, abbiamo le stanze quelle grandi, quindi sono stanze grandi, stanze piccole, e corridoi. Dadi, in questo gioco si tirano i dadi a sei facce, e a seconda del simbolo che uscirà fuori, potete fare un attacco, potete fare una difesa, attivare un potere particolare, cose del genere. Monetina primo giocatore, in ferro, spettacolare, anche bello il disegno e tutto quanto, questa moneta è soltanto da dare al primo giocatore, e in alcuni casi del gioco, il gioco potrebbe dire, tira la moneta, quindi testa o croce, se esce testa, fa un effetto, se esce croce o un altro. Carte che comprendono i cittadini, quindi i paesanni, villager, con tutte quante le caratteristiche, le trappole che potete comprare, e altro. Plance dei mostri, per farvene vedere una, con tutte quante le abilità speciali che hanno, poi gli spazi, dove potete conservare i dadi, tipo la difesa, la riserva, e il movimento, e poi ovviamente la descrizione del personaggio. Dietro c'è un po' di storia, e un po' di lore, sul mostro che avete scelto. Altri corridoi, token, altri mostri ovviamente che ci sono dentro, anche le schede degli eroi, che vi dicevo, che vi verranno a dare la caccia, e poi tutto il resto, le ruote che servono per i punti ferita, del vostro nucleo, perché poi alla fin fine, i mostri dovranno entrare nel nucleo, nel cuore del dungeon, e distruggerlo, e tutte le altre stanze, da defustellare. Vi faccio vedere un po' come gira un turno. Noi abbiamo fatto un setup per una partita, tre giocatori. Il gioco si può fare anche da due in su, tranquillamente, perché poi comunque le regole si adattano, per un fatto della scalabilità, che ci saranno meno spawn, un po' come abbiamo visto in giochi, come Zombicide. Nella scheda c'è scritto sempre il nome, ovviamente del personaggio, in questo caso è un vampiro, il tipo di maledizione che l'affligge, in questo caso è un dannato, un maledetto, un cursed, e qua giù invece la classe del personaggio. In questo gioco ci sono tre classi, un po' come fosse un morp, che ho appunto un tower defense. Ci sono i tank, che sono quelli che reggono più colpi, però fanno meno danni, servono per fermare i nemici. Ci sono i supporti, che invece servono a curare, dare buff e cose del genere, e poi i puri DPS, che non sono molto armati, subiscono molte ferite, ma sono quelli che fanno più ferite di tutti. Poi, in alto c'è scritto i punti ferita, che ha il vostro mostro, i punti esperienza, che sono questi qui praticamente, che gli servono per passare di livello, quindi ogni volta che guadagnate un punto esperienza, mettete questo qui, uccidendo un mostro, ovviamente, cioè, scusate, siete voi i mostri, fa ancora strano dirlo, uccidendo un villager, ci mettete un punto esperienza per un villager normale, un punto esperienza per un cacciatore, e due punti esperienza, quando uccidete un eroe nemico. Quando arrivate a guadagnare sei punti esperienza, li scartate tutti quanti, li rimettete nella pila in comune, e potete o far passare di livello una delle tre abilità che ha il personaggio, quindi di partenza sempre questa, potete nel caso mettere, passando di livello, la versione sua evoluta, che è questa qui, oppure potete prendere forma di pipistrello, o se avete già forma di pipistrello, potete invece, cambiarla nella sua versione più potente, quindi ogni volta che passate di livello, ricordatevi sempre che, o fate passare un'abilità a livello 2, o ne prendete un'altra. Nel caso il vostro personaggio, abbia tutta l'abilità sbloccata a livello 2, invece potete curarvi, o una condizione, o una ferita. Poi, sulla scheda come vi dite abbiamo le ferite, quindi ogni volta che andate a subire delle ferite, ci andate a mettere sopra un token, per ricordarvi appunto che il vostro mostro è stato ferito, che sono questi qua, e poi ci sono anche quelli da 3, per facilitarvi, insomma, perché se no non ce ne sarebbero abbastanza per tutti. E le abilità sotto, questa casella che invece, queste caselle, scusate, questi spazi che vedete accanto, sono per metterci i dadi, perché in questo gioco dovrete sempre, inizio del turno, ciascun mostro, voi tirerete i dadi, e a seconda di quello che uscirà, potrete fare delle azioni. Le azioni descritte sui dadi sono, con l'artigliata, attacco che fa una ferita in corpo a corpo. questo è un simbolo di ranged, a distanza, quindi è un attacco a distanza, uno e uno soltanto, però, quindi in una zona adiacente, che fa sempre un punto ferita. Magico, per lanciare incantesimi, se avete un'abilità, tipo, forma di pipistrello, vedete, richiede di utilizzare un dado incantesimo, che ovviamente ci dovrete andare a mettere sopra, con un token, come poi vi faccio vedere, quindi lanciare incantesimi, o curarsi nel nucleo, perché i mostri si vanno a curare nel nucleo del castello, che vi faccio vedere. Difesa, assorbire due danni, ma da uno stesso attacco, quindi non attacchi separati. Contrattacco o vendetta, che serve per subite le ferite, quindi se il mostro ve ne fa una o due, voi le subite, però gli fate un quantitativo uguale, di danni che gli tornano indietro, quindi con queste non assorbite, ma gliele ributtate indietro. Vi fa due danni a voi, ma che ne so, ne fate due danni a lui, o uno e uno. E questo simbolo qui, che vuol dire che invece, che i villager, anzi, uno dei villager, il più lontano dal nucleo, del castello, si avvicinerà di una casella, verso il castello. Quindi facciamo conto, che noi li andiamo a tirare, ora per farvi un esempio, tiriamo questi dadi, e vediamo che cosa è uscito. Se, ma è una vostra scelta, se escono tre dadi uguali, quindi in questo caso, non ci sono stati, ma se escono tre risultati uguali, potete prendere, solo esclusivamente, quei tre dadi uguali, e ritirarli. Se riescono uguali, potete ritirarli, perché se no, insomma, qui è tutto un gioco, tira e tieni. Se ti va male, quel turno lì l'hai perso, cioè il tuo personaggio, non fa niente, se non ti esce nemmeno un combattimento. E quindi il gioco, ti dà la possibilità di ritirarli, se te ne vengono tre uguali. L'unica cosa che non potete mai ritirare, sono i dadi villager, perché in questo caso qui, vuol dire che uno dei popolani, che vengono per uccidervi, si è mosso. Tutti gli altri, sono dadi che potete utilizzare, nella fattispecie, in difesa, come vedete, ci potete mettere solo dadi difesa, che io in questo caso, non ho, non ne ho nemmeno uno. Comunque, se avessi avuto un dado in difesa, potevo dire, ok, i due dadi che ho in difesa, ve li metto in difesa, e ci mettete sopra il token, per ricordarvelo. Quindi, quando verrò attaccato, in quel turno, e solo in quel turno, perché non si conservano, io avrò due difese. Poi ci sono i dadi in riserva, che potete mettere due, a seconda di quante caselle, alcuni mostri ne hanno anche tre, e alcuni uno, soprattutto i dps, il vampiro, ha due dadi in riserva. Io potrei dire, ma in questo turno, non voglio attaccare nessuno, me lo voglio tenere per il turno dopo, quindi mi tengo una riserva, di un attacco, e poi, visto che, boh, mi interessava rifare qualche danno indietro, mi tengo anche un retalete, una vendetta. Quindi, nella riserva, ci potete mettere i dadi, che non li usate per questo turno, ma li userete in un turno successivo. Nel movimento, a parte il dado con la torcia, ci potete mettere qualsiasi dado, qualsiasi, quindi dite, che ne so, mi rimane questo e questo, ce li metto tutti e due, che mi serviranno per spostarvi. Per ogni dado, movimento, che mettete nel movimento, vi potete muovere di una zona. E questa, praticamente, ragazzi, è tutta quanta la descrizione, della scheda del personaggio. Ricordatevi soltanto, che le abilità senza un simbolo, richiedono ovviamente, sono passive, quindi le potete utilizzare sempre. Mentre invece, nelle abilità dove sopra, c'è il simbolo di un dado, vuol dire che ci dovete mettere, quel tipo di dado, ovviamente, vi ci ho messo il dado, ma ci dovreste mettere, il token. Ci andate a mettere sopra il token, sprecando uno dei vostri dadi, per fare l'azione che c'è scritta. Questa è la tabella, che è il core del dungeon, e del morale dei popolani, dei villager. Come vedete qui, c'è la vita del castello, quindi questa è proprio la vita del core. Decine e unità. Qui sotto, ovviamente, vedete 5, 4, 3, va a scalare, e di qua invece, vedete le decine, 20, 10, e quant'altro. Banale dirvi che quando la vita del core arriva a zero, avete perso la partita. Di qua, il morale dei popolani, anche qui, di solito, nel 90% dei casi, quando il valore di morale dei civili, dei popolani, arriva a zero, li avete distrutti, o comunque sono scappati, avete difeso il castello, avete vinto l'avventura, poi gli eventi del villaggio, che vanno avanti. Ogni volta che finisce un turno, quando arriva la fase dei mostri, lo dovete avanzare del numero di mostri che avete in campo, non di giocatori, eh, di mostri. E quindi attiverà, a seconda di alcuni step, scelti dallo scenario, che ne so, quando arriva a 5, quando arriva a 10, quando arriva a 20, quando arriva a 15, e così via, ogni volta che arriverà in quello step lì, dovrete girare una carta, evento, da mettere in campo. Nel caso non ci sia scritto nulla, è una carta che va applicata e risolta. Nel caso invece potrebbe essere una carta persistente tutto il turno. Quindi ricordatevi, vita del dungeon, morale del villaggio, quindi ogni volta che uccidete un popolano, non soltanto guadagnate punti esperienza, ma dovete abbassare il valore del morale di uno. Eventi, che vengono attivati a seconda di quanti mostri sono in campo, di quanti scatti fa, andando appunto sugli step, e qua sotto invece c'è il mazzo delle trappole. Queste sono le trappole che il vostro personaggio, il vostro mostro, può comprare, ma ci sono delle limitazioni. Potete comprare una carta, solo ed esclusivamente, se avete intanto il costo per pagarla. Quindi nel caso, ce l'ho un dad attacco per comprare questa? Sì, ce l'ho. Lo spreco e la compro. Ok. In più vi dovete trovare nel tipo di stanza che è segnata qua sopra. E le stanze sono stanze grandi, stanze piccole e corridoi come sono segnate qui. In questo caso qui è una stanza grande. Mi trovo in una stanza grande? Ok, allora la posso comprare. Mi trovo in un corridoio? C'ho il dado. La posso comprare? No, perché le trappole non ve le potete portare dietro, le potete soltanto comprare se vi trovate nella stanza da utilizzare. E simboli che ci sono sopra vuol dire che questo simbolo qui, la trappola ferisce tutti i popolani, qualsiasi tipo, eroi, cacciatori, di tutti. Questa trappola qui ferisce popolani e cacciatori, ma non gli eroi, per quanto chiunque la possa attivare, però ferirà soltanto popolani, normali, villager e cacciatori. E quando c'è il simbolo, e quando invece esce una carta con questo simbolo, vuol dire che ferirà soltanto gli eroi. Banale dirvi che quando ne avete comprata una, la dovete piazzare sul tabellone di gioco, nella stanza dove l'avete comprata, e subito ne andate a sostituire. Ce ne devono sempre essere tre, fino a che ovviamente non finisce il mazzo. Le trappole possono essere attivate da chiunque, tipo se su questa dell'eroe ci passa un popolano normale, la trappola scatta, scatta lo stesso, però non li ferisce. Quindi state attenti quando li piazzate, perché se ci va il mostro sbagliato e non elencato, ve la distrugge, punta e basta. Quando ammazzate un nemico guadagnate un punto esperienza, e prendete anche, abbassate, scusate, di uno il morale del villaggio. Quando è la trappola ad uccidere un nemico, abbassate comunque il morale del villaggio, ma non guadagnate punto esperienza, perché il lavoro vostro l'ha fatto la trappola. E qua su in cima, il mazzo dei villager, che a volte faccio ancora confusione, che chiamo mostri per eroi, perché penso sia normale, è il primo gioco che mi capita del genere, molto bello. Quindi quando dovrete far sponare gli eroi, i villager, dovete sempre andare a pescare una di queste carte qui, e vedere sotto cosa c'è scritto per sponare mostri. Quindi questo è il mazzo degli eventi, che girate solo quando vengano attivati, questo è il mazzo delle trappole, e questo è il mazzo degli eroi e dei villager, che entreranno in campo. Ora vi faccio vedere come gira un turno, e soprattutto la mappa di gioco. Qui in campo abbiamo messo il vampiro, ok? Nel caso io andassi al vampiro a dargli, lo posso scegliere io, sotto il colore blu, quindi l'andassi a mettere dentro questa pedina blu qua giù, ricordatevi sempre, tanto ve lo faccio vedere dopo come funziona, che quando sponeranno o degli eroi, o dei cacciatori di mostri, voi dovrete andare a pescare da questo sacchettino qui, che ora vi faccio vedere un po' come funziona, dove dentro ci sono i token, dei tipi di mostri che abbiamo messo in campo, e li dovrete sempre mettere il tipo di colore, legato appunto allo loro nemesi, perché quando un cacciatore blu, attaccherà un mostro di colore blu, li farà non un danno ma due, e questa è una delle regole più importanti del gioco. Qui c'è un mazzo degli eroi, che potranno entrare in campo, ora ve lo giro però, ovviamente deve stare coperto, perché quando il gioco ti dirà, una di queste carte che vi ho fatto vedere prima, vi diranno, in gioco entra un eroe, l'eroe che entrerà in gioco è casuale, ed è pescato da qui. E vedete che anche gli eroi, a differenza dei villager normali, che non hanno caratteristiche, perché fanno un movimento, un'azione, una ferita, nient'altro, hanno qui accanto le loro caratteristiche, elencate. Sia chiaro che, ogni volta che ammazzate un qualsiasi tipo di villager, dovete sempre, sempre, sempre abbassare il morale, anche se l'ammazza una trappola. Però, prenderete punta esperienza, solo se l'avrete uccise voi. All'inizio della partita, dovete andare a mescolare il mazzo, quello che vi ho detto, dello spawn dei mostri, ora prendo due carte a caso, per farvi vedere un po' come funziona, perché dovrete mettere i mostri del primo turno. Ora, in questo caso qui, ho pescato la carta di villager, vedete il simbolo qua su col forcone, e cacciatori, così vi faccio vedere subito come si pescano i cacciatori. Ora, mettiamo caso che in questa zona qui, ho pescato dei villager, e sotto, come nello stile di zombie side, vedete che ci sono tre colori, con, livello 1, livello 2, livello 3, tre mostri, 5 e 7, per i vari livelli. Per vedere cosa spona, di quando si passa al livello successivo, c'è sempre scritto nel libretto dello scenario, quando si abbassa il morale delle truppe del villaggio, perché più ne ammazzate, più cercheranno di mandarvi ovviamente sempre, più truppe, più carne da macelle, e magari sarà il momento di mandare in campo anche gli eroi, o comunque più popolani, a cercare di distruggere il core del castello, che è questa stanza qua giù, che vedete, da dove partiranno sempre mostri, questa stanza qui viola. Se i nemici arrivano qua giù, e la distruggono, perché non ha tanti punti di ferita, ricordate, ve ne può avere 15, ma a volte ne può avere 5, anche a seconda dell'avventura, e 5 vuol dire che basta, che i 5 nemici c'entrano e fanno i loro attacchi, una ferita ciascuno, e avete perso la partita. Quindi avete tutto quanto, minare di trappole e cose del genere, e bloccarli con i vostri mostri. Comunque, per vedere quando arriveranno, magari il manuale vi dice, quando il morale del villaggio, da 30 arriva a 20, passate allo step 2. Quando il morale scende a 10, passate allo step 3. siccome è una cosa di partenza, perché per farvi vedere, la partita è appena iniziata, noi siamo a livello 1, quindi qui ci spawnano 3 popolani con l'accetta. Quaggiù andiamo a mettere in questa stanza, 3 popolani con l'accetta, come detto da questa carta, queste qui sono delle condizioni, questi 3 token, ora poi ve lo vado a dire. Ora arrivano gli hunter, e quando arrivano gli hunter, da qua giù ve l'ho detto, dovete sempre andare a pescare da questo sacchettino. Quindi noi andiamo a prendere, uno dei 3 token, che sono un token per mostro, per genere di mostro, e andiamo a tirarlo fuori. Ed è un mostro non morto, non è il caso del vampiro, perché il vampiro è un token di maledetto. Ve li tiro fuori tutti e tre, per farvele vedere. Questo è un tipo di creatura demoniaca, ad esempio, questo è invece il cursor del maledetto, come il vampiro, e questo è una creatura non morta. Ora, visto che il vampiro è maledetto, se io ho pescato degli hunter, che hanno questo simbolo qui, dovrò sotto agli hunter, andare a mettere cacciatori, la basetta dello stesso colore, del mostro non morto che ho in campo. Però, se fosse uscita questa qui, e mi fosse andata male, li dovete mettere lo stesso colore, ad esempio del vampiro. Come detto prima, se il vampiro aveva la sua basetta blu sotto, tutti quanti questi hunter, che al momento di partenza sono due, livello 1, dovranno avere la basetta, dello stesso colore suo, per ricordarsi, che quando andranno ad attaccare la loro nemesi, gli faranno due danni invece che uno. Quindi, anche questi, li prendiamo e li mettiamo qui. E questo è il primo turno di gioco. Questa qui è una condizione, che sta a significare che, nell'avventura, c'è una condizione generale, in quella stanza, e andate a leggere il libretto, magari potrebbe essere un rallentamento, stanze in fiamme, cose varie. Ora, ovviamente il turno inizia, che tutti i giocatori si muovono, e come vi ho detto, dovete sempre andare a tirare i sei dadi, che avete, e a seconda di quello che esce, potete fare delle azioni. Ricordatevi sempre, con gli slot, che attacchi, ne potete fare quante ne volete, perché l'attacco, è l'unica cosa che non ha slot. Però, se volete fare difese, riserve, e movimenti, nel caso del nostro vampiro, il nostro vampiro potrà fare, soltanto due difese a turno, soltanto due riserve a turno, e soltanto due movimenti a turno, quindi il vampiro, più di due volte, non si può muovere. Ora, voi andate a tirare i dadi, che sono usciti, che sono questi qua, e ricordatevi sempre, che se ce n'è tre uguali, li potete ritirare, ma non è questo il caso. Però, è uscito, come vedete, un forcone. Quindi, questo vuol dire, che ora, un villager, si deve muovere, uno soltanto, si devono muovere, prima, quelli nelle zone più lontani dal core, però, qui c'è il core, uno, due e tre, qui c'è il core, uno e due. Quindi, quelli più lontani dal core del castello, in questo caso, sono i paesani, e non gli hunter. Ora, per muoverli, dovete prendere uno, del gruppo di quelli più lontani, non tutti, è soltanto uno, e muoverlo avanti di uno. Quindi, questo è quello che è successo, con questo dado, che automaticamente viene scartato. Mettiamo caso, ce ne fosse un altro, ovviamente, ne muoverete due. Sempre dovete muovere, prima, quelli più lontani. Se, nella stessa casella, ce ne sono più tipi, mettiamo caso, qui ci fosse anche un hunter, l'ordine è sempre, paesani, hunter, e poi eroi. Vi ci metto anche un eroe, hanno la base più grossa, per farlo vedere. Quindi, ricordatevi sempre, che se, si deve muovere qualcuno, dalla stanza più lontano, dal corridoio, ed è, pieno, praticamente, di qualsiasi genere, di nemici, voi dovete sempre andare, paesani, hunter, e poi eroi. Comunque, quello che vi ho fatto vedere ora, è che noi prendiamo direttamente, uno, e lo muoviamo, e uno lo muoviamo. Quindi, già questi due dadi, sono esclusi. Ora, mi rimangono, un attacco in corpo a corpo, un attacco a distanza, una difesa, e un potere magico, che, o ci posso attivare, un'abilità del mio personaggio, se ha un'abilità che funziona, con questo tipo di simbolo, oppure, ricordatevi che, quando i mostri sono feriti, l'unico modo che hanno per curarsi, è tornare nel core, sprecare uno di questi dadi, e, sprecando questi dadi, si possono, o curare una condizione, che potrebbe essere incendiata, o potrebbe essere, una ferita sanguino lento, o altre cose, oppure, potrebbero anche curarsi una ferita, quindi, se nella scheda del personaggio, noi abbiamo una ferita, posso curarla, o ferita, o condizione, non tutte e due. Quindi, se ho, tre dadi magici, ad esempio, e non li ritiro, me li tengo, posso curare tre ferite, o tre condizioni, quindi, magari, boh, questo, scartiamolo, perché, ho usato una cura, e mi sono curato una ferita. Adesso, rimangono, come vi ho detto, un attacco in corpo a corpo, una distanza, e una difesa. La difesa, me la metto subito sulla scheda, così, tirerò due dadi in difesa, mi rimangono dei dadi, in corpo a corpo, un po' si attacca a nessuno, perché non c'ho nessuno, e a distanza manco, perché comunque, puoi tirare, puoi attaccare, massimo, tutti i mostri, sia chiaro, hanno la possibilità di attaccare, sia in corpo a corpo, che a distanza, però, io dico, qui non c'ho nessuno, nemmeno a distanza uno, allora, boh, spreco la prima azione, visto che loro si sono avvicinati abbastanza, spreco la prima azione, il primo dado, per fare un movimento, qualsiasi dado, eh, lo potete usare per fare i movimenti, a parte quelli di Popolani, e mi muovo, qui, ricordate sempre, c'è una condizione, bisognerà vedere cosa succede, e poi, il secondo dado, che è un attacco a distanza, lo uso per ammazzare uno di questi, ah, in questo gioco non si tira dadi, sia i mostri, che i villager, non tirano dadi per fare ferite, quando una ferita entra, entra, punto e basta, cioè, non c'è da vedere se l'ho assorbita, se oppure, c'avevo un'armatura, non c'è equipaggiamento in questo gioco, quindi anche molto più veloce, cosa ho fatto? Ne ho ucciso uno, perché vedete, ho fatto un attacco a distanza, che fa una ferita, quindi, un villager, dei due è morto, abbasso il morale generale, del villaggio di uno, e mi vado a beccare, un punto esperienza, punto esperienza, che metto sulla scheda, e quando col vampiro arriverò a 6, potrò prendere o un'abilità nuova, o far passare un'abilità attuale, che ho a livello 2, ora, io tutti i dadi li ho finiti, non posso fare nient'altro, ho messo un dado in difesa, come vi ricordate, e andiamo avanti, voveranno ovviamente gli altri due mostri, che sono insieme a me nella partita, non ve lo faccio vedere, tanto il funzionamento è lo stesso, arriva la fase dei mostri, quando arriva la fase dei mostri, la prima cosa da fare è mandare avanti il village event, che vi ho fatto vedere prima, e nel caso rivelare una nuova carta, evento, quindi quella è la primissima cosa, che dovete fare, successivamente, tutti quanti i nostri nemici, gli eroi, si muovono, fanno attacco, e movimento, quindi non possono dire, questo, visto che fa un attacco, un movimento, va qui e mi attacca, no, perché tutti quanti i nemici, prima fanno l'attacco, c'è qualcuno nella stanza, no, il paesano attacca, solo in corpo a corpo, l'hunter attacca, in corpo a corpo, e a distanza di uno, perché hanno anche armi da tiro, e gli eroi, alcuni eroi, hanno anche gittata, non tutti, alcuni eroi sono da corpo a corpo, altri invece da corpo a corpo, e da gittato, viceversa, quindi nel caso del paesano, non può attaccare nessuno, però viene qui, e non fa nient'altro, questo, può attaccare qualcuno, no, e viene qui, va avanti, prima, si muovono sempre nell'ordine, paesani, hunter, quindi anche gli hunter, verranno avanti qui, perché non possono attaccare nessuno, e poi ultimi, gli eroi, che anche l'eroe verrà avanti, a seconda del tipo di movimento che ha, altra cosa, se al posto di questi due paesani qui, invertiamo un attimino, ci fossero stati, qua giù, i due, fatidici hunter, e questi hunter, come vi ho detto prima, fate conto che hanno la pedina blu, perché sono la nemesi, cioè il vampiro ha la loro nemesi, quindi sono cacciatori di vampiri, loro arrivano qui, e a questo punto qui, loro partono qui, e partendo da qui, come vi ho detto, devono fare attacco e movimento, attacco, non c'è nessuno in corpo a corpo, però loro fanno anche attacchi a distanza, e qui c'è uno, e guarda caso, è la loro nemesi, quindi gli fanno due punti feriti a testa, ora, vi ricordate che io ho messo, un valore di difesa di due con lo scudo, perché lo scudo conta sempre due, allora, le ferite di questo, che me ne farebbe due, perché sono la sua nemesi, se no ne farebbe una, lo assorbite, tutte e due, non mi fa niente, però quest'altro mi fa automaticamente due ferite, e quindi andate a prendere i punti feriti, e li mettete sulla scheda del mostro, nel caso io invece gli avessi messo, questo risultato qua giù, voleva dire che, da tutti e due prendevo le ferite, quindi questo me ne faceva due, e questi due, però, da uno dei due, gli assegno questo dado magari a lui, e lui quando mi attacca, mi fa due ferite, ma se ne prende due indietro, avendo un punto ferita soltanto, lui morirebbe, mentre, e non c'ho più dadi, e lui invece mi farebbe due ferite, quindi ho preso quattro ferite, ma ne ho ucciso uno, e uccidendone uno, andrà a prendere un altro, punto esperienza, l'altra cosa che vi dicevo, delle trappole, che si potevano fare, quando un mostro, compra una trappola, bisogna vedere se la può mettere, anche nella stanza dove si trova, ad esempio, la chest mimic, questa qui, per essere comprata, ha bisogno di questo dado, io ce l'ho, questo dado qui, mi è venuto fuori, dal tiro che ho fatto precedentemente, boh, si ce l'ho, quindi spreco questo dado, per comprarla, dallo shop, cosa mi dice, che ferirà soltanto eroi, quindi solo l'eroe, il villager normale non li ferisce, la posso mettere in una stanza piccola, in una stanza grande, ma non nei corridoi, ora nel gioco, queste sono stanze piccole, queste sono stanze grandi, e nel caso, i corridoi, sono questi qua, ma comunque tanto, non è il caso, quindi, quando la compro, automaticamente, questa carta, la devo lasciare qui, ricordatevi che, ci può essere, solo una trappola per stanza, anche se la stanza è grande, quindi, ho tutto, sia il dado, che il costo, che tutto quanto, e vediamo cosa farà, poi sotto c'è una descrizione, quando i mostri, ci passano sopra, ovviamente, vostra, non succede niente, quando ci passano sopra, i villager, la fanno scattare, quindi, ricordatevi sempre, che, se ci finisce sopra, un eroe, quindi si sposta, da qui a qui, la fa scattare, la trappola, e si becca al danno, che c'è scritto, perché dell'eroe, ma se la fa scattare, un hunter, o se la fa scattare, un villager normale, la trappola comunque scatta, e scattandola, dovete scartare, sempre, quando è attivata, va scartata, però non ferirà nessuno, perché non era il suo tipo, quindi, potrà ferire, soltanto l'eroe, e ricordatevi, che le trappole scattano, quando un eroe, ci si ferma dentro, un eroe, un villager, insomma, o quelli che sono, un paesano, ci si ferma, non se va oltre, perché ad esempio, se, un eroe, ha più di uno di movimenti, fa uno e due, la trappola non scatta, o ad esempio, se metto la trappola, in una zona, dove già precedentemente, c'era un eroe, e io sono qui nella stanza con lui, e gliela metto sotto i piedi, comunque, nella fase dei mostri, non scatta, perché scatta soltanto, quando una miniatura, si finisce il suo turno, in quel punto lì, dove è la trappola, non quando va oltre, quindi se lui finirà il suo turno qui, la farà scattare, però, solo e soltanto, se ne sposterà oltre, i nemici, fanno sempre, i loro attacchi, quello che devono fare, e poi, si spostano verso il core, ovviamente, se nel mezzo ci siete voi, vi picchiano, però ricordatevi sempre, che i vostri nemici, i paesani, andranno sempre verso il core, e quando arrivano al core, fanno la loro azione e entrano, e poi nelle azioni successive, fanno danni, perché anche qui vale la stessa regola, cioè se un paesano, si muove qui dentro, non fa danno al core, in quel turno, però nel turno successivo, se non l'ammazzate, fa il suo attacco, come lo può fare solo, in corpo a corpo, potendolo fare solo in corpo a corpo, invece potrà fare danno, direttamente al core, però occhio, perché gli hunter, hanno attacchi a distanza, quindi se c'è un hunter qui, nel suo turno cosa farà, tirerà, quindi già avrà fatto una ferita, e poi entrerà nel core, e il core del castello, il cuore del castello, ha poca vita, perché a volte hanno 10 ferite, a volte 15, ma a volte ne hanno 5, quindi nell'avventura più difficile, state molto 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 attenti, la fase di mostro è questa qui, muovere quelli che già sono in campo, fargli fare tutte quante le azioni, vedere se dal mazzo degli eventi, deve esponare qualcosa, e alla fine fare esponare, nuovi nemici, un po' appunto, l'esempio che mi viene più lampante, come zombie side, quindi ancora una volta, tocca, se esce ovviamente, se sulla carta dello spawn, ad esempio, esce un eroe, come in questo caso, vedete, è un eroe, e però vi dice un eroe, quale, boh, voi dovete andarlo a pescare, da qui, quindi ancora una volta, adesso bisogna far sponare, i nostri nemici, e noi andiamo a pescare, ne piglio due a casa, per farvele vedere, e questa volta, cosa va a sponare, da qua giù, sponano paesani, da qua giù, sponano paesani, mettiamo caso, che siamo andati avanti, abbiamo picchiato, abbiamo fatto danni, sangue, litri, a volontà, e questa volta qui, siamo passati allo step 2, perché l'avventura ci dice, quanto è arrivato il morale, del vostro nemico, a 20, ok, 20 passate allo step 2, a livello 2, questa volta qui, non ci sponano più, tre paesani, ce ne sponano 5, e qua giù, ce ne sponano uguale 5, quindi come vedete, mano a mano, che li ammazzate, diventano sempre più agguerrite, e vi mandano sempre più gente, alla fine, quando mancherà poco, per abbattele, vi manderanno sempre più gente, per fare un assalto finale al castello, e vedere di sopravvivere, comunque le regole ragazzi, sono queste qui, ricordatevi che, i dadi che mettete in riserva, non li potete usare per questo turno, però nel turno successivo, già ce l'avete, ma con una regola, se voi avete messo, due token, quindi due dadi, due token di riferimento in riserva, che ne so, ci ho messo un attacco, in corpo a corpo, e una magia, perché ho bisogno di andare nel core, a curarmi, nel turno successivo, li avete in riserva, li potete spendere, o tenerli ancora più avanti, però tirate due dadi in meno, perché comunque questi contano, come se aveste messo, dei dadi nelle vostre riserve, poi la fiaccola, non si può mai ritirare, questo è direttamente, lo spostamento di un villager, anche un eroe, qualsiasi, però il più lontano dal core, uno e uno solo soltanto, e poi se vi escono, tre dadi uguali, li potete ritirare, potete fare, quanti attacchi vi pare, in corpo a corpo, potete fare, quanti attacchi vi pare, a distanza, però ciascun mostro, ha i suoi slot, per difesa, per riserva, e per movimento, quindi un vampiro, potrà massimo, mettere due dadi in difesa, e massimo, muoverci due. Ragazzi, queste qui sono tutte le regole, e ricordatevi sempre, importantissima, la zona di spawn, ogni volta che finisce, la fase dei mostri, dovete spawnarne di nuovi, spawnate i mostri, che non si muovono, rimangono nella zona di spawn, non possono attaccare, non fanno niente, però sono lì, pronti a picchiarvi, quindi è tutto, una corsa a distruggere gli eroi, i popolani, i vostri nemici, soprattutto tornare regolarmente, levarsi dal fronte, ritornare nel core, curarsi, perché i mostri si curano, soltanto nel cuore, e poi stare attenti che nessuno arrivi fino a un fondo. Ovviamente ragazzi, ci sarebbero altre cose, le regole sono qui, bene o male, me ne può essere scappata una, ma ve le ho dette tutte, ci sarebbe da farvi vedere anche, ovviamente ci sono altri token, perché non ce ne è tantissimi, però sono abbastanza diversificati, tipo condizioni, incendi, addirittura no, quelli dell'esperienza ve l'ho fatti vedere, non c'è tanta roba, e una cosa che ho apprezzato, che non l'hanno appesantito questo gioco, e per questo li do un voto in più, perché, potevano appesantirlo con gli equipaggiamenti, perché nei tower defense, tipo orc must die, dopo che hai fatto un tot di soldi, ti vai a comprare la mega spada, ti vai a comprare la mega armatura, ti vai a comprare, non so nelle espansioni, ma almeno nel gioco base non c'è, cioè il vampiro ha quello che vedete, ha gli artigli, ed ha magari attacchi a distanza, magari la benshi, c'ha il suo urlo, e c'ha le sue vesti da spettro, quello con la frusta può attaccare a distanza, e altri tipi di, però le armi che hanno, l'equipaggiamento che hanno, è quello che vedete addosso alla pedina, non si può comprare altri equipaggiamenti. Come gioco è facile, le regole sono poche, scritte benissimo nel manuale, forse versione 1.1, forse l'hanno aggiornata, comunque sono scritte bene, chiare, ti restano in testa, e anche qui c'è qualche, che viene come me da Zombicide, soprattutto nella fase di spawn, nella fase di movimento dei mostri, un po' come quando gli zombie sciamano, verso di te, ci ritroverà meccaniche, insomma, già viste e riviste, quindi ancora più facile, sono cose veramente facili, che ti rimangano in testa, e ho visto che è uscita un'espansione vera e propria, che inserisce nuovi mostri, delle sabbie, qualcosa del genere, più ci sono tante altre piccole espansioni, che mettono nuovi tipi di eroi, nuovi tipi di mostri, è un gioco ragazzi, e poi sono belli nelle scatole, spero di riuscire a farvi vedere, che sono fatte al libro, un po' come quelli di Dungeon Saga, è un gioco veloce, ed è bellino perché, oltre a essere di base, ovviamente all'80% un Tower Defense, mette anche delle meccaniche, secondo me Dungeon Crawler carine, perché è ganso il fatto, che loro si devono muovere per le stanze, e te le devi fermare, sì è vero, non c'è la fase di loot, che fa il vampiro, va nel suo castello, aprire gli scrigni a trovare armi, sarebbe stato inverosimile, però comunque, ci si ritrova tanto, di quell'atmosfera gotica, un po' d'archeggiante, castello di Dracula, cose del genere, che ci piace insomma, a un amante come me, e mia moglie, ad esempio dell'horror, quando l'abbiamo visto, poi soprattutto le pedine bellissime, abbiamo detto, no lo vogliamo assolutamente, se le devo dare un voto, a un gioco del genere, appunto per due cose, soprattutto uno, non averlo voluto appesantire, il gioco deve fare il suo, essere un Tower Defense, non esagerate a buttarci troppe cose, quindi un punto a favore, perché l'ha fatto, e un'altra cosa, le pedine tutte differenti, è una cavolata, ma se io ti ci metto, il villager con l'accetta, una cavolata, perché ti ci devo mettere, un altro villager col forcone, oppure, perché vi ci devo mettere, una donna col forcone, e una donna con l'accetta, non potevo metterne uno e uno, no perché l'hanno volute, diversificare le pedine, perché è anche più bellino da vedere, cioè, sembrava l'armata dei cloni, le guerre dei cloni di Star Wars, invece vedi veramente, i popolani, tutti differenti, che ti sciamano verso il castello, ed è molto interessante, e poi vabbè anche gli eroi, tipo guardate qui il tombarolo, che ti entra dentro il dungeon, per saccagnati di botte con la pala, no è bellissimo, miniature, tile, cura per l'attenzione, per le carte, per i disegni e tutto, e per le meccaniche, le do assolutamente un 9 su 10, meritatissimo, veramente bello, e vi ricordo, intanto ringrazio la Grimlord Games, per avermene offerto una copia per la recensione, e vi ricordo, se lo volete, vi vi lascio tutti i due link, se lo volete comprare in inglese, e che qualcuno lo vuole in inglese, vi lascio il link, il primo, il secondo link, subito sotto, e per acquistarlo, in versione italiana, direttamente dalla weird edizione, che tra l'altro, colgo l'occasione per salutare, e ringraziare, di cuore come sempre, e ci sono anche tutte le altre espansioni, ragazzi, se vi garbano, io non sono fan di Tower Defense, quindi mi ci metto io, magari insieme a qualcuno, che potrebbe non piacere di genere, io non sono fan di Tower Defense, non ho mai giocato, ci avrei giocato due volte, ma svogliatamente, a Ork Must Die, non mi piacciono, però c'è anche delle meccaniche carine, che lo fanno, secondo me la fusione giusta, fra un Dungeon Crawler, e un Tower Defense, molto carine, dategli veramente una possibilità, 9 su 10 meritatissime, e poi in descrizione, tutti quanti i link, dei nostri social, fatemi sapere cosa ne pensate, con un commento, dategli un occhio ragazzi, dategli un occhio, perché questo, è il gioco che, sì, dai, lo potete portare bene o male, da tutte le parti, ciao ragazzi, alla prossima.